buongiorno ciclisti sto sul cavalcare via perché ho fatto uno strappetto bello interessante bello e interessante per testare le ruote la bici e tutto il resto e mi diverto guardare gli automobilisti scatolati dentro le loro scatole di ferro che passano il loro tempo così a viaggiare a parte che oggi si viaggia in altra maniera aereo treno bus ce n'è di più anche in bicicletta lo sapevate no certo in questo periodo di pandemia tutto è tutto è cambiato però quando finirà questa maledetta pandemia e torneremo alla normalità si spera dovremmo pensare di cambiare le nostre abitudini meno auto più aria pulita più attività fisica più salute è semplice eppure le persone preferiscono fare la fila dal dottore dal medico curante per farsi prescrivere le pasticche per no quelle di freni a disco è quelle per combattere il colesterolo che ne so la pressione alta piuttosto che salire in bicicletta o fare che ne so attività fisica in modo da fare bene a se stesso e anche agli altri perché gli altri fanno parte della natura dell'ambiente del mondo ormai questo è una cosa che si sa è nota però la stragrande maggioranza è pigra fa fatica e se la prende quei ciclisti che stanno sulle strade perché le strade sono solamente di quelli che hanno l'auto lo sapevate questa no lo sapevate perché quelli per pagare il bollo e tutto il resto assicurazione si vantano il diritto di essere i proprietari di avere un uso esclusivo della della strada mi fate pena ciao